Buonasera a tutti dal Tg regionale per sordi. Un uomo di 40 anni è morto stamani dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da un furgone a Monsummano in provincia di Pistoia. L'urto è stato molto violento e la vittima è stata sbalzata al di là del guardrail finendo in un fossetto laterale. L'incidente è avvenuto poco dopo le 6.30. All'arrivo dell'ambulanza il quarantenne era già senza vita. La vittima viveva vicino al luogo dove è stata investita, si stava recando alla fermata del bus per andare al lavoro in un calzatorificio. L'autista del furgone è un 59enne di Cerretto Guidi, provincia di Firenze, si è subito fermato e la dinamica dell'incidente adesso è al vaglio dei carabinieri. Invece sono andati fuori strada con la loro auto cadendo in un dirupo di ben 15 metri per poi finire contro un albero perdendo la vita una coppia di anziani, rispettivamente 80 e 85 anni nel Pistoiese. Per i due che non avevano fatto rientro a casa nella serata di ieri erano partite le ricerche dei vigili del fuoco del comando di Pistoia, allertati dalla polizia. Trent'anni di reclusione contro la pena all'ergastolo inflitta in primo grado, così ha deciso la Corte d'Appello di Firenze per il marocchino 31enne Abdelgani Ammari, accusato di aver ucciso il 30 marzo 2017 a Prato dopo una rapina in strada Leonardo Locascio, 38 anni, portiere di notte che stava andando al lavoro. L'omicidio avvenne nei giardini davanti al Tribunale presso Viale della Repubblica. La vittima, 38 anni, fu colpita con un coccio di vetro per un bottino di pochi euro e un telefonino. La Corte d'Appello ha così accolto la richiesta della difesa di Ammari. Quest'ultimo venne individuato come il presunto omicida grazie alle telecamere di sorveglianza. Avrebbero scambiato video pedopornografici inneggiato a Hitler, Mussolini e all'Isis, postando frasi contro migranti ed ebrei su una chat di Whatsapp, battezzata The Shoah Party, con la diffusione in tutta Italia di immagini e frasi davvero shock. A scambiarsi video e messaggi un gruppo di ragazzini tra i 15 e i 19 anni. In 25 sono stati coinvolti in un'inchiesta partita da Siena coordinata dalla Procura dei minori di Firenze. Ieri scattate perquisizioni in Toscana, ma anche Piemonte, Lazio, Campania e Calabria. Tra i minori coinvolti ci sono anche alcuni tredicenni. Essendo non imputabili per la loro età, nei loro confronti gli investigatori non hanno proceduto. Le indagini, durate cinque mesi, sono partite da Siena dopo la denuncia di una madre che aveva scoperto nello smartphone del figlio tredicenne immagini pedopornografiche di una violenza inaudita. Coltivava marijuana nel bed and breakfast. Un imprenditore di 31 anni, residente all'Isola d'Elba, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Aveva iniziato a estrarre marijuana dal suo raccolto e aveva messo le piante di canapa a essiccare dentro casa quando i militari si sono presentati per un'ispezione. hanno scoperto un vero e proprio laboratorio. Oltre 10 grammi di hashish, piante di canapa ancora in fase di crescita e poi sequestrati 3,5 kg di marijuana pronta per l'uso. I carabinieri del nucleo investigativo di Firenze hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 5 appartenenti a una presunta organizzazione dedita a rapine e furti in ambito internazionale. I destinatari del provvedimento sono stati bloccati a Montecatini Terme e a Firenze. La banda, i cui componenti sono romeni e albanesi, sarebbe responsabile di 6 rapine a sale slot e di 23 furti con il metodo della spaccata. Commessi Toscana, Umbria, Veneto, Emilia Romagna tra febbraio e giugno 2019, ma erano pronti ad effettuare altri colpi. Un bimbo di 6 anni è rimasto solo su un treno partito da Firenze in direzione Roma, è stato rintracciato dalla polizia ferroviaria e riconsegnato ai genitori una coppia di turisti cinesi. I turisti si erano rivolti agli uffici della Polfer della stazione di Santa Maria Novella, Firenze, raccontando che il figlioletto era rimasto solo sul treno. Il capotreno, contattato dalla sala operativa della Polizia Polone Ferroviaria, ha rintracciato il piccolo e l'ha preso in custodia fino all'arrivo a Roma Termini e qui è stato accolto e accudito e rassicurato finché non sono arrivati i genitori. Un dialogo tra un bimbo con disturbi neuromuscolari e i suoi genitori, con questa immagine contenuta in uno spot che la Federazione Italiana Medici Pediatri vuole sensibilizzare i genitori italiani a riconoscere i principali segnali delle malattie neuromuscolari e invitare loro a sottoporre regolarmente i figli alle visite dei bilanci di salute dal proprio prediatra di famiglia. Lo spot fa parte del progetto Peter Pan, che prevede anche un sito internet dedicato. Queste nuove iniziative sono presentate oggi a Pestum in occasione della prima giornata del tredicesimo congresso nazionale scientifico della FIMP. E veniamo ora alle previsioni del tempo per domani in Toscana. Nuvoloso sul nord della Toscana, con possibilità di locali piogge, parzialmente nuvoloso invece altrove. Ampie schiarite però in serata, venti deboli, mari mossi a nord dell'isola d'Elba, poco mossi altrove. Temperature in lieve diminuzione, soprattutto nei valori minimi. Anche per questa sera è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci. Grazie a tutti.